ciao a tutti ragazzi oggi sono qui a Zuliano gioco in casa e sono venuto a vedere finalmente era ora una delle meraviglie del mio paese anzi qui siamo nel punto triplo tra Zuliano Lugo e Fara un punto di ricongiungimento tra i tre paesi quindi andremo a fare un breve video di questa bellissima oasi che vedete alle mie spalle devo dire che è stata ripresa per mano dopo un po' di abbandono negli anni scorsi adesso c'è ancora un po' di incurio però tutto sommato non è male per un paesino di 6.000 abitanti come il mio breve interruzione solo per dire l'origine di questa cava adesso non mi ricordo bene come collocarla sarà anche scritto nel cartello però non mi sono neanche fermato l'origine di questa oasi diciamo che è stata nel momento in cui stavano costruendo una cava estraendo del materiale qui da una cava vicino al torrente astico che è qui dietro praticamente dragando hanno praticamente rotto una vena d'acqua e in men che non si dica tutta la ex cava è stata inondata d'acqua e andendola inutilizzabile completamente buona ragazzi devo dire che è veramente incredibile l'abbassamento dell'acqua dall'ultima volta in cui sono venuto un anno fa circa quella scusa che non piove il livello si è veramente abbassato di tre metri circa mai vista a me sa male così ecco siccome il tempo sta peggiorando ragazzi prima che diventi nuvoloso del tutto andiamo a fare la perlustrazione dell'osi mare di sosta e sentite che richiami di uccelli rilassantissimo apprezzato un po di natura selvaggia natura selvaggia ma interrotta dal suono delle campagne di isoliano più avanti ragazzi capirete il motivo per cui oggi ho calzato i scarponcini da trekking veramente ragazzi è una gran cosa avere un'osi così vicino a casa veramente saremmo a 500 metri da casa mia praticamente altri due passi ragazzi e vi farò vedere una sorpresina ecco qui ragazzi adesso siamo arrivati alla sorpresina che a me è un po peggio di come me la ricordavo l'ultima volta attenzione alla perla questa qui originariamente era veramente una bella una stupenda mi ricordo tempi di scuola costruzione adibita alla pratica del bird watching addirittura in inglese ecco qua adesso vedete che è un po di orcata andiamo a vedere un tour della casetta del bird watching ci vediamo cosa si vede ovviamente ragazzi questa è una stagione di uccellaggio e simili perché siamo ancora a febbraio e bisogna aspettare questa primavera estate per vedere qualche esemplare qui migrano e sostano alcune specie di uccelli abbastanza rari e adesso ovviamente non sono in queste zone ragazzi è la prima volta in assoluto che scendo da questo lato perché normalmente l'acqua come ripeto è parecchio più alta infatti qui sarei quasi dentro praticamente invece adesso è tutto asciutto mamma come è calato qui si vede ancora di più c'è di solito questa questa sponda è praticamente tutta lagata infatti vedete anche i sassi lì invece adesso guardate dove è andato a finire il livello dell'acqua questa ragazzi come vedete sarebbe la zona degli stagni e gli stagni ormai è a gran poco infatti qui al nord c'è una siccità ragazzi che fa veramente impressione qui c'è questo minimo scoglio d'acqua che va ridicolmente alimentare il laghetto ma fa male vedere l'oasi in questa maniera perché comunque è come diceva un pugno nello stomaco proprio un segno del clima che sta cambiando adesso ragazzi avete capito che ho portato gli stivaletti da trekking tutto questo limo stupendo adesso ragazzi vado a percorrere un po tutto il lungo lago se riesco a venire fuori da questo pantano e qua sono andato veramente giù pesante roba e sabbie mobili guardate che sfangata che roba sembra cemento mannaggia ragazzi ne avevo mai smerdato gli stivali in questa maniera guardate che roba veramente è una combinata una zosseria stavolta decisamente non un'escursione dove portare una ragazza e soprattutto al primo appuntamento non si fa colpo di sicuro ecco dopo aver investito 5 minuti dell'escursione per rimuovere un po' di terra degli scarponcini che penso che se avessi portato a casa avrei potuto farmi un intero orto quanto ne avevo attaccata nei bordi del scarponcino ecco 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 bene dopo aver ripulito gli stivali aver circunnavigato il laghetto adesso mi accingo ad uscire e tornare fuori fuori dalle sponde come detto dopo aver circunnavigato il lago c'è questo sentiero che conduce all'esterno ed ecco qui si esce e si arriva da capo ultima tappa andiamo a vedere l'antica casetta della roggia breganzina e non si capisce che ho letto spudolatamente ecco ecco un'ultima un'ultima visuale prima di uscire ecco ragazzi questo è quanto nel momento in cui mi approssimo all'uscita e io vi saluto vi mando al prossimo video e spero che questo vi sia piaciuto di questa piccola perla di natura 100 metri da casa mia vi ho detto che è appunto tra Zuliano Fara e Lugo se vorrete venire a visitarla se siete qui nei paraggi magari qualcosa per cambiare la solita routine non è male da in escursione con Jacopo Tessari è tutto e ragazzi tanti cari saluti e alla prossima